C'è Gesù che chiede a me la mia scelta libera, dirò di sì. Le richieste di Gesù mi spaventano però, vorrei seguirlo. Cosa rispondo? Cosa rispondo? Ora tocca proprio a me, nessun altro ci sarà, se dicono. Cosa rispondo? La parola di Gesù chiama a me. Cosa rispondo? E tu chiami proprio a me. E tu qui, e tu qui, e tu chiami proprio a me. Nel cuore so che mi hai richiesto tutto, niente per me, e tutto quanto a lui. E tu chiami proprio a me. E tu qui, e tu qui, e tu chiami proprio a me. Chiama a me. Cosa rispondo? La parola di Gesù chiama a me. Cosa rispondo?